Al primo stage di mister Luciano Tarallo della sua Academy c'è anche Ferdinando Coppola. Ciao Ferdinando. Buonasera a tutti. Ferdinando, io ti vedevo all'esterno del campo che guardavi questi ragazzi allenarsi. Che cosa pensavi in quei momenti? Un po' di nostalgia innanzitutto, perché avendo smesso da poco, dopo tanto tempo, rivedevo il campo e dei portierini. Al di là di tutto mi sono un attimino isolato proprio per gustarmeli. Ho visto che comunque c'è un bel ritrovo, un bel raduno, tanti portierini, non è nemmeno tanto facile poi metterli insieme. Qui ci sono riusciti, speriamo bene. Nando, sicuramente qualcuno l'hai addocchiato. Io non voglio sapere con precisione chi, però qualcuno c'è. Vedo che hanno delle basi e si vede che è stato fatto un lavoro con questi ragazzi. È ovvio che la strada è lunga, ma non per mancanza di qualità, perché effettivamente qualcosa su cui lavorare c'è. Poi gli ostacoli, man mano che si va avanti, ci sono e stare a loro caratterialmente, tecnicamente, superarli uno ad uno e farsi valere. Sicuramente dopo avrai modo di parlare con loro, perché mister Tarallo ti chiamerà sicuramente in causa. Ecco, prima mister Tarallo diceva ai ragazzi al centro campo, oggi vi dovete divertire. A questa età è quello che conta di più, divertirsi. Soprattutto, dovrebbe essere prima l'obiettivo di chi allena. Diciamo, radunare questi ragazzi come è stato fatto oggi e permettergli di divertirsi. Di divertirsi lavorando, perché poi devono assimilare, attingere dalle nozioni che gli vengono date e di conseguenza il mix è perfetto. Ribadiamo che la base e il divertimento, ovviamente più riusciranno ad assorbire durante questa giornata, più si troveranno nel loro cammino. Ebbè Nando, io con te non posso non parlare di Napoli, perché altrimenti... Ieri il Napoli ha battuto la SPAL, l'ha fatto con il punteggio di 2-1 in trasferta a Ferrara, ma con un portiere, ormai l'abbiamo noi soprannominato Muret, perché davvero para tutto. C'è però, prima di scendere nel dettaglio della partita di ieri, qualcosa che tu ti consiglieresti ad Alex, qualche magari piccola lacuna che si porta dietro, perché effettivamente in alcune circostanze durante appunto questa stagione, qualche piccola pecca all'ammostata ancora, è anche molto giovane però. Ma mi resta difficile, diciamo, non dargli consigli, però come dire, fargli degli appunti, ma per un semplice fatto, l'hai detto te, lui è un portiere giovanissimo, giovanissimo che si appresta quest'anno forse a giocare in una squadra importante, per cui la società gli ha dato modo di crescere e la crescita deve passare proprio attraverso questi piccoli errori, che lui con lo staff ogni giorno, ogni allenamento, limerà sempre di più e sicuramente il Napoli si troverà un portiere, mi auguro, per un futuro molto lungo e per traguardi importanti. Dopo la gara di ieri, ecco, Muret è il nome giusto. Ma bello, originale, ecco, i napoletani non si fanno mancare fantasia e è la prima volta che lo sento, per cui secondo me... Possiamo dire che lo abbiamo coniato noi di Calcio Napoli 24. Complimenti, complimenti, perché secondo me è azzeccato e mi auguro che lui possa essere veramente questo muro ogni domenica e ogni partita, perché il Napoli poi non giocherà solo la domenica, per cui glielo auguriamo di vero cuore. Medetto, Spina e Carnesis, quest'anno il Napoli ha avuto tre portieri importanti? Ma, diciamo, la caratura della squadra, della società, deve sicuramente lavorare su questi profili. È riuscita soprattutto a creare una squadra all'interno della squadra, perché la squadra dei portieri, se ha feeling, se ha intesa come è successo al Napoli, poi, diciamo, porta punti, porta un bel modo di lavorare. Loro ci sono riusciti, grazie un po' a tutto, a Mr. Ancelotti, Nista, società. Che ben vengano, mi auguro che possa essere riconfermato in blocco questo gruppo e soprattutto che il Napoli poi ci regali tante soddisfazioni. Ecco, io è lì che volevo arrivare, tante soddisfazioni. L'ultima, Nando, che ti faccio riguarda un po' la stagione. Napoli è arrivato secondo in classifica, ha confermato ciò che era appunto lo scorso campionato, anche se la Juve però ha parecchi punti di vantaggio e ha già vinto da parecchio tempo lo scudetto. C'è il rammarico Champions solo perché quel gol di Milik poteva far passare il turno, però allo stesso tempo c'è il rammarico Europa League perché siamo stati eliminati contro l'Arsenal. Forse possiamo definirlo il rammarico più grande invece alla Coppa Italia perché aver perso quella gara dei quarti contro il Milan è forse una pecca, l'unica macchia possiamo definirla di questa stagione. Io da tifoso parlo, ho detto in più occasioni, che forse la Coppa Italia è l'ammaro in bocca perché era la portata, perché il Napoli aveva tutte le qualità per andare avanti. Penso anche in quel momento storico del Milan, perché poi il calcio è fatto di momenti, di episodi, però ha detto male. Ciò non toglie che il Napoli a mio avviso ha fatto una stagione comunque da considerare importante. Ovvio che noi tifosi ci si aspetta il trofeo perché penso che poi il trofeo gratifichi anche i sacrifici, il lavoro, però il campionato lo vince uno, la Coppa Italia la vince una sola squadra. Questo è il calcio, io penso che il Napoli il lavoro che debba fare sicuramente è quello di continuare a rimanere competitivo. Poi noi dobbiamo spingerlo affinché possa guadagnare quei punti, parlo come ambiente, come tifoseria, quei punti che distano da chi ci precede. Grazie Nando. Grazie a voi, ciao a tutti.